Ciao a tutti, bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italiano Giulia Salemi e Gaia Zorzi vi aspettano per commentare insieme una nuova puntata di Cancelletto GFVIP Anche questo mercoledì, come ogni settimana, torna l'attesissimo appuntamento digital only dedicato esclusivamente al commento live di Cancelletto GFVIP Punto Questa sera fra gli ospiti ci saranno, l'ex inquilino della casa più spiata d'Italia Nicola Pisu, l'imitatore e influencer Claudio Napolitano, l'opinionista Emanuela Tittocchi e i Two Twins Le due conduttrici Gaia Zorzi e Giulia Salemi vi aspettano alle ore 20.45 per trascorrere insieme due ore all'insegna di sfide, commenti e tanto divertimento Per vedere comparire i vostri commenti nel corso della trasmissione, utilizzate l'hashtag Cancelletto GFVIP Party Il programma è in diretta streaming ogni lunedì e giovedì ed è disponibile su Mediaset Infinity e sul sito ufficiale di Grande Fratello Vip Grazie per aver guardato l'intero video.Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo ai prossimi video. Addio